Con una donazione di 10 euro al mese da parte di ogni famiglia della comunità di Preturo, ha rivisto la luce nella sua veste originaria la Madonnella, la chiesetta di Capo Preturo. Le origini della Madonnella non sono certe, eccetto che per la datazione scritta contro la facciata, 1750. Questa, presumibilmente, è riferibile all'anno di edificazione dell'edificio sacro. Nella storia della chiesa non è comunque un anno come tutti gli altri, si tratta infatti di un anno giubilare. La Madonnella è un luogo caro soprattutto ai malati e agli anziani della comunità, devoti soprattutto al quadro dello sposalizio della Madonna che è custodito sull'altare della Madonnella. E' così che la comunità di Preturo si è stretta per assistere alla consacrazione della chiesetta della Madonnella, fatta con una celebrazione solenne, ufficiata dal Vescovo Metropolita dell'Aquila, Monsignor Petrocchi. Tra le reliquie tumulate nella consacrazione della chiesetta, anche quella del Libro d'Oro, con l'elenco di tutte le famiglie che hanno contribuito alla rinascita ed al restauro della Madonnella, perché possano rimanere a futura memoria dei posteri.